Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, come vi anticipavo già nel video di ieri, le novità arrivate con la patch 9.30 continuano ad essere scoperte giorno per giorno, miglioramenti, nuove armi, nuove LTM e ovviamente una storyline che sta per arrivare al termine e quindi portarci verso la season numero 10. Nel video di oggi ragazzi vedremo il nuovo revolver, una delle due, anzi tre, armi presenti nei file di gioco e ancora ovviamente non rilasciate ufficialmente. ma vi mostrerò anche tre nuove LTM, quindi tre nuove modalità di gioco a tempo limitato che sono molto interessanti ma sono solo la punta dell'iceberg di un numero ben più grande di modalità in arrivo in questa estate di Fortnite e ovviamente per farcire il tutto un bel po' di leaks, beh i sugozi, beh i sugozi ragazzi per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator Xiodarone, grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina raga e cavolo la domandina ve la devo fare sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto, vi metto i cuoricini, li leggo ragazzi oggi la domanda è molto personale ma te da che season giochi a Fortnite? raga siamo arrivati quasi alla season numero 10 è passato tantissimo tempo te da che season giochi? io ho iniziato nella prima ragazzi giocavo dopo due settimane che è uscito Fortnite e purtroppo ho abbandonato al termine quasi della prima season per poi riprendere nella numero 3 ho perso purtroppo il cavaliere nero scrivetemi la vostra season di inizio qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande i bando alle ciance andiamo subito a vedere una curiosità nella patch 9.30 sono state fatte delle modifiche qua e là e una di queste è proprio il piccone palla da discoteca non so se avete notato voglio farvi vedere uno spezzone in game ragazzi non so se avete notato che questo piccone con la nuova patch è illuminato nel manico il problema è che è un po' fastidioso se devo essere sincero non lo so bella l'idea sicuramente divertente ma un po' fastidiosa per quanto può riguardare il gameplay oltre che ad essere sostanzialmente molto molto sgamabile qualora fossimo in zone d'ombra quindi una particolarità che magari non tutti sapevano l'avevo anche già caricata nella pagina Instagram vi consiglio sempre di andare a dare un'occhiata ragazzi all'Instagram di XUDER c'è sempre un sacco di novità su Fortnite anche lì ma andiamo avanti ed eccola qua ragazzi eccola qua la nuova revolver questa è l'immagine ufficiale presente nei file di gioco e come vedete dovrebbe essere automatica abbiamo un tamburo come vedete che gira il che vuol dire che secondo me avrà un Megazine quindi come dire un caricatore da 6 colpi ragazzi e abbiamo anche delle notizie extra notizia numero 1 sarà in 2 varianti epica e leggendaria ho un po' paura che mi tolgo la deagle eh raga ho un po' paura che mi tolgono la deagle ma abbiamo come vi dicevo invece i dati ufficiali della nuova revolver 63 il danno per la versione epica 66 il danno per la versione leggendaria un fire rate di 1,5 secondi e di 0,75 tra un colpo e l'altro ci avevo preso il Megazine ragazzi è di 6 quindi 6 colpi in canna possibilmente da sparare a ripetizione tempi di ricarica per la versione epica 1,9 secondi per la versione leggendaria poco meno 1,8 funzionerà ragazzi con i colpi medi quindi a differenza della deagle che invece funziona con quelli pesanti staremo ovviamente a vedere quando verrà inserita è molto probabile che potrebbe anche arrivare settimana prossima staremo ovviamente a vedere e vi terrò aggiornati qualora arrivasse anche qualche spezzone del gameplay ma andiamo avanti ragazzi ed ecco un'altra novità presente nei file di gioco sicuramente avete già visto un bel po' di skin che stanno per arrivare abbiamo ancora delle skin della patch 9.20 non rilasciate mi vengono in mente per dirvi i soldatini di plastica che dovrebbero arrivare il 24 giugno ma molti hanno fatto una domanda interessante su questa skin che non è altro che alla deriva è acquistabile nello shop oppure è uno stile personalizzato ragazzi vi confermo che è uno stile personalizzato quindi in poche parole ci viene regalata la versione estiva di alla deriva tra cui due varianti per questa versione la prima ragazzi a petto nudo palesemente come notate ghirlanda di fiori e ciondolo con la maschera che utilizza lui di solito stessa maschera legata anche dietro alla cinta e versione che vediamo un po' più indietro invece con una camicetta estiva quindi ragazzi tanta roba anche per questo regalo non sarà assolutamente necessario acquistarlo e proseguiamo come vi avevo anticipato con questa bellissima schermata di caricamento che in realtà nasconde ben più di una semplice schermata stiamo parlando ovviamente della modalità water balloon quindi gavettoni come li chiamiamo noi ragazzi è una vita è una vita che non mi arriva un gavettone addosso che bello come vedete ragazzi la modalità non abbiamo purtroppo la descrizione della modalità ne abbiamo di altre di questa non si sa ancora nulla sappiamo che arriverà molto molto presto e noterete ovviamente che in mano alla skin alla deriva c'è appunto un gavettone che sarà proprio un nuovo giocattolo disponibile che credo ci venga regalato insomma una cosa molto particolare ma ecco qua ad esempio una delle nuove modalità in arrivo rumble che si giocherà solo duo oppure squads si giocherà massimo in 48 giocatori e la particolarità della descrizione è che fight alone allora ve la traduco combatti da solo o in duo in squad qualora tu abbia selezionato questa modalità per la vittoria reale in questa nuova ltm dove il primo giocatore a raggiungere il target di eliminazioni richieste vince quindi molto probabilmente ragazzi o c'è il respawn probabile che ci sia il respawn anche perché siamo in 48 e quindi tipo sei in limite 10 il primo che arriva a 10 kill se la porta a casa ma ce n'è anche un'altra che è un team rumble siphon e la particolarità di questa modalità va un po' a riprendere uno stile di gioco che a molti era piaciuto e a me anche che poi è stato ovviamente fixato con delle patch non ricordo se la 8.50 la 8.40 questa dice invece due grandi squadre si combattono per la vittoria quasi una simile 50 versus 50 in questa nuova modalità dove il primo team a raggiungere il numero di eliminazioni richieste vincerà la particolarità qual è scritto proprio alla fine eliminando un giocatore otterrete 50 di salute o qualora avessimo 50 di salute 50 di shield molto interessante per chiudere poi con la terza più interessante di tutte quelle che hanno inserito si chiamerà heavy metal in questa modalità solamente i solamente le armi heavy quindi le armi pesanti potranno essere trovate nei loot quindi nei forzieri probabilmente troveremo la deagle i barret il fucile pesante la k credo che sia anche quella anche quello considerato insomma ragazzi nuova modalità anche qua che si rischia assolutamente di avere quanto prima probabilmente prima del termine della season e chiudo con l'immagine che vi avevo anticipato all'inizio di questa carrellata di LTM che è proprio il water balloon quindi il gavettone che arriverà come giocattolo per tutti gratuitamente io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo tra pochissimo in live ciao ciao